Ciao a tutti! Quest'anno per Natale sono qui. Come vedete, lo zaino è sempre la sua taccapanni. L'Africa quest'anno per me non è raggiungibile, così c'è la gioia di essere qui all'eremo. L'eremo rimane aperto e così anche il nostro telefono romena in ascolto. Mi fa piacere pensare di essere raggiungibile, anche voi siete raggiungibili per noi qui. Così vi invito per chi vuole alla vigilia di Natale dalle 4 fino a mezzanotte e poi anche al 25 mattina fino a mezzogiorno, poi vado a pranzo dei nostri vicini perché siamo soli e poi dalle 3 fino alla sera il telefono è aperto. Sono qui e vi aspetto con gioia.